In compagnia del nuovo direttore sportivo dell'FC Sutero, Paolo Bravo, è il giorno della tua presentazione. Ti chiedo, dopo tre anni a Rimini, dopo tre anni a Sant'Arcangelo, che opportunità professionale è per te questa che ti propone, che ti offre Sutero? Credo che sia uno scalino ulteriore migliorativo per la strada che sto percorrendo per fare il direttore sportivo. Ho scelto Sutero, perché credo che ci sia, per quanto riguarda la proprietà e la società, un progetto di crescita importante, cominciando dalla serietà delle persone, ma quella la imparerò, soprattutto dalle strutture e dalle idee di calcio che vogliono percorrere. Questo mi sembra da fuori che sia fatto con grande equilibrio e normalità e quindi è un'altra caratteristica che comunque ho guardato nella scelta per il quale poi sono arrivato. Essendo tu arrivato a fine stagione, adesso il tuo impegno è già proiettato verso la prossima stagione. Ho visto il momento particolare, particolarmente bello anche che sta vivendo il Sutero. Senti di poter dare un apporto concreto, tangibile anche in questo finale di stagione? La prima cosa che farò è non fare danni, perché quando le cose vanno bene è inutile volere improntare qualcosa che non ha senso fare. Da questo punto di vista sarò spettatore di una cosa molto bella che l'allenatore e i ragazzi stanno ottenendo. Mi sono presentato i ragazzi chiedendo permesso, quindi questo fa capire quanto rispetto abbia per le cose belle che stanno facendo. È logico che, essendo il direttore sportivo, sarò a disposizione per qualsiasi problematica dovesse uscire, ma io non credo che ci siano grossi problemi. Da questo punto di vista massimo rispetto e cautela. Cosa conoscevi già del Sutero in tempi non sospetti, definiamoli così, e cosa hai imparato a conoscere in queste settimane, in questi ultimi giorni? Fondamentalmente conoscevo, per sentito dire, soprattutto la serietà della società e quando venivi a giocare contro il Sutero capivi comunque di un certo ordine. E questo mi ha sempre colpito, perché i campionati di Lega Pro l'ho fatto anche dovendomi salvare all'ultima giornata, non c'è nessun tipo di problema. Spesso si hanno palcoscenici e situazioni diverse. Questa è sicuramente la caratteristica che mi ha colpito. La speranza è quella di poter apportare qualcosa e di ottenere dei buonissimi risultati, degli ottimi risultati insieme a questa società. Sarà un Paolo Bravo concentrato quasi esclusivamente sulla prima squadra o anche sul settore giovanile, verso il quale il Sutero presta grande attenzione? Credo che sia un fiore all'occhiello, perché mi risulta che tanti ragazzi cresciuti nel Sutero o che stanno crescendo nel Sutero siano all'attenzione di grandi club. Avete la fortuna, il Sutero ha una fortuna incredibile che è quella di avere sicuramente una situazione geografica non felicissima dal punto di vista calcistico, ma molto molto felice dal punto di vista che non c'è niente intorno. Un ragazzo per forza di cose, se vuole fare calcio, viene notato dal Suterole, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto. Per quanto riguarda i miei compiti, con la società abbiamo già parlato, è logico che il direttore sportivo guarda la prima squadra ma sicuramente per necessità, ma perché è giusto così, debba guardare anche sotto. È logico che ci sarà un responsabile del settore giovanile con il quale mi interfaccerò e sceglieremo le cose migliori. È logico che essendo lui il responsabile del settore giovanile io starò a sentire quello che ha da dirmi. Deve essere stata proprio, mi viene da dire, una trazione forte quella del Sutero perché da dirigente, da direttore sportivo hai sempre lavorato vicino casa, tu sei bresciano di nascita ma riminese ormai d'adozione e hai lavorato a Rimini e Sant'Arcangelo, quindi sotto casa, se mi passi l'espressione. Perché è stata l'unica squadra che mi ha voluto. Grazie a tutti.